ciao a tutti bentornati alla bc del football oggi parliamo della settimana numero 2 post partita parte 1 ho un po di raffreddore quindi già vi dico che cercherò di mantenere questo video quanto più diciamo efficiente possibile detto questo però comunque prima di iniziare a parlare delle partite vorrei mettere un po il focus su a che punto siamo nei record ossia voi vedrete adesso qui di fianco le squadre imbattute ovviamente in alto ci sono gli eagles perché oggi è lunedì e quindi gli eagles non hanno ancora giocato quindi gli eagles sono imbattuti però sono 1-0 non conta proprio vedremo domani se saranno ancora imbattuti probabilmente vedremo ora come vedete non sono molte le squadre rispetto all'anno scorso secondo me sono decisamente meno molte squadre sono 1-1 e vorrei porre però il focus su due divisioni in particolare l'AFC North nell'AFC North tutte le previsioni pre-stagione che io avevo seguito dei vari canali su Instagram su YouTube le previsioni degli esperti dell'NFL tutto davano ovviamente i Ravens e i Bengals in posizioni 1-2 bene Ravens e Bengals sono 0-2 tutte e due i Browns sono 1-1 gli Steelers con la loro capacità di far segnare solo di concedere due punti a partita riescono a mantenere per ora il 2-0 quindi gli Steelers sono gli unici imbattuti da divisione sono solidi in prima posizione voglio porre poi l'attenzione sull'AFC South sono tutti 0-2 tranne i Texans e diciamo che la mia previsione dei Colts che possono vincere la divisione sta sembrando piuttosto difficile in questo momento ci sono un paio di squadre un po' sospette diciamo nel gruppo degli imbattuti però questo vedremo pongo l'attenzione anche sui Seahawks i Seahawks sono gli unici rimasti imbattuti in NFC West i Rams sono 0-2 e siedono in fondo alla divisione quindi io direi a questo punto di passare a Rams Cardinals partita di divisione finita con un'umiliazione da parte dei Cardinals e i Rams e ci sono tre cose che vorrei dire a questo punto uno, i Rams sono 0-2 e la settimana prossima giocano contro i 49ers quindi già un inizio molto molto difficile i Cardinals a questo punto hanno fatto due partite molto convincenti una di seguita all'altra quindi iniziano ad essere una conversazione completamente diversa infine i Bills dopo che i Cardinals hanno vinto in modo così convincente contro i Rams dopo che i Bills hanno vinto in modo convincente contro i Dolphins ci possiamo fare due domande anche su quanto forti sono i Bills ora parliamo dei Rams perché i Rams secondo me a parte questa partita stiamo già parlando in un'ottica di stagione perché se i Rams iniziano 0-2 se iniziano 0-3 cosa che è probabile visti gli infortuni allora la stagione inizia ad andare fuori controllo Pucanacua non torna almeno fino alla settimana 5 Cooper Cup si è fatto male a metà partita e dopo la partita aveva una fasciatura rigida alla gamba il che non fa pensare che lui possa giocare alla prossima partita l'offensive line abbiamo visto praticamente senza titolari quindi allora non è rimasto nessuno sono rimasti Matthew Stafford e John Jackson la corsa fa schifo i Rams sono persi sono persi vedremo cosa si dirà di Cooper Cup e onestamente ho sentito un tifoso dei Rams dire la cosa che Sean McVay dovrebbe essere in grado di fare è fare in modo che mette lo schema giusto perché i ricevitori si aprono ok però c'è un limite a quello che si può fare c'è un limite a quanto Matthew Stafford può reggere senza offensive line ma c'è un limite a quanto i wide receiver si possono aprire onestamente quando i tuoi wide receiver uno e due sono tutti e due fuori i Rams sono messi cioè sono messi proprio male per quanto riguarda i Cardinals invece non possiamo che essere positivi abbiamo un attacco che è stato assolutamente elettrico Kyler Murray praticamente perfetto Marvin Harrison ha fatto finalmente la partita che ci aspettavamo da lui 4 esplosivissimo 4 catch per a 130 yard due touchdown hanno corso molto bene James Conner 21 che è a race per 122 yard e un touchdown però dall'altra parte di questo successo c'è la difesa dei Rams che ha giocato davvero molto male il problema principale della difesa è il placcaggio nel front four passava di tutto c'era un po' di pressione però proprio problemi a placare il secondario lasciava che i wide receiver si aprissero in modo molto facile cioè non riuscivano a fermare la corsa non riuscivano a seguire Marvin Harrison che si apriva molto bene e se guardate tutte le azioni esplosive che hanno avuto i Cardinals sono tutte dovute a mancanze di placcaggi molto pesanti da parte dei Rams quindi il problema della difesa è dovuto probabilmente dovranno rivedere il coaching ma in parte è dovuto alla mancanza di talento è vero che giocatori che hanno giocato bene la settimana scorsa in questa defensive line che secondo me la settimana scorsa aveva giocato bene questa settimana non si sono fatti assolutamente vedere l'attacco in fortuni vari è perso e quindi i Rams hanno un altro tipo di domande per quanto riguarda i Cardinals sulla difesa secondo me non c'è molto da dire perché i Rams non avevano davvero nessuno in attacco quindi la difesa ha avuto una partita relativamente facile posso dire il secondario di Cardinals è forte relativamente non c'era nessuno da coprire in questa partita posso dire il passaggio di Cardinals è forte il passaggio di tutti è forte contro questa offensive line e quindi la difesa è ancora un TBD però l'attacco adesso sono due partite che l'attacco si fa vedere e quindi l'attacco di Cardinals secondo me può essere molto molto interessante quest'anno i Colts hanno giocato contro i Packers e questa è una partita che ho voluto seguire da vicino quando ho capito che era molto più interessante di quanto non avessi predetto e quindi ne vorrei parlare perché ho più le idee chiare rispetto che su altre partite per esempio sui 49ers non so nulla me la devo vedere tutta perché io onestamente non l'ho seguita pensando che fosse una partita completamente diversa da quella che è stata e quindi me la devo andare a riprendere e rivedere tutta prima di domani comunque i Colts hanno perso contro i Packers e ci sono direi due storyline che riguardano entrambe le squadre di cui possiamo parlare perché secondo me la partita è stata basata sulla corsa a parte da entrambe le parti sulla corsa per quanto riguarda quello che le squadre sono riuscite a fare perché i Colts hanno provato a lanciare molto semplicemente non hanno avuto successo nel farlo e di questo ne parleremo parleremo di Richardson e della sua percentuale di completi del 50% dall'altra parte un'altra cosa che le squadre hanno avuto in comune è il fatto che non abbiamo visto una partita molto forte da parte del pass rush perché entrambe le squadre davano degli hand off e dei lanci corti così veloci che di pass rush abbiamo visto davvero poco effettivamente non hai bisogno di tenere tanto la palla per fare un lancio di una yarda o per dare la palla al tuo running back e quindi i pass rush non hanno avuto l'opportunità di arrivare al quarterback questo non vuol dire che visto che le classifiche sono basse i pass rush delle due squadre non siano validi semplicemente per via degli schemi utilizzati il pass rush non ha avuto l'opportunità di essere incisivo la run defense di tutte e due le squadre però effettivamente ha avuto problemi a fermare la corsa parliamo di Indianapolis perché Indianapolis sicuramente è quella su cui avevo più aspettative entrando in questa partita Green Bay aveva semplicemente tutto da dimostrare ma Indianapolis allora ha fatto fatica fin da subito zero punti nella prima metà con un Anthony Richardson che ha iniziato come il problema non è stato l'unico problema ma è stato uno dei problemi e onestamente è il quarterback e quando il quarterback gioca molto male ovviamente è un problema quindi il punto è che abbiamo quello che si diceva nel processo di draft è Richardson al peggio se non riesce a lanciare almeno può creare con la corsa bene in questa partita il creare con la corsa non si è visto non ha praticamente corso e cosa ha lanciato? ha lanciato tre intercetti c'è stato qualche lancio buono da come mi ricordo neanche un lancio esplosivo però in realtà ci sono stati dei lanci di quelle 15-20 yard però non ci sono state le 50 yard che tengono equilibrata la partita quindi togliendo la parte positiva della partita scorsa Anthony Richardson ha tenuto soltanto la parte negativa quindi tre intercetti di cui ne contiamo due perché l'ultimo è stato a fine partita e a fine partita cioè si prova tutto che sia un lancio completo un intercetto non ti cambia niente a fine partita quindi due intercetti di cui parlare numero uno un lancio se non mi sbaglio Alec Pierce lanciato una buona yarda oltre la sua capacità di salto quindi un buon due yardi sopra la sua testa con una yarda che ha saltato per cercare di prendere la palla comunque una yarda sopra overthrow molto brutto decisamente troppo alto è arrivato decisamente completamente nelle mani del ricevitore non mi ricordo chi era del difensore che l'ha presa quindi lancio uno molto brutto lancio due c'era Pittman se mi ricordo bene che correva copertura a uomo da parte di un difensore l'altro difensore che stava arrivando il safety che stava arrivando da dietro e un altro che era non troppo distante quindi triple coverage più un altro dietro e Antonio Richardson ha visto e pensato ah sì quello è quello che voglio l'ha lanciato a Pittman e di fianco ma vi dico cioè più vicino a Richardson ma più o meno in linea di vista da quello che mi immagino di Richardson per Pittman a distanza di una yarda dalla linea della palla c'era Mitchell completamente libero senza nessuno di fianco perché tutti tutti gli altri erano proprio concentrati su Pittman e vedendo tutto questo Richardson ha pensato Pittman è il mio uomo ovviamente intercettato intercettato male quindi problema ora Mitchell sì è vero era libero ma ha fatto una brutta partita quindi ci sta anche che Richardson non si fidasse ora secondo me non l'ha visto però se anche l'avesse visto non è che abbia fatto una buona partita Mitchell e quel drop è stato un altro drop un problema che ha già mostrato nella partita scorsa quindi in realtà non è che ci sta inizio ad avere un paio di dubbi su Mitchell come ricevitore perché i drop sono dei problemi che tendenzialmente poi i giocatori si portano dietro Jonathan Taylor anche lui ha avuto un drop però in realtà è stato l'unico giocatore offensivo davvero positivo no Alec Pierce ha fatto una buona partita Jonathan Taylor è riuscito a correre abbastanza bene l'offensive line riusciva a bloccare e la defensive line di Green Bay ha concesso abbastanza alla corsa però Green Bay aveva già concesso contro la corsa la settimana scorsa quindi abbiamo semplicemente confermato una debolezza che Indianapolis ha deciso di sfruttare ora Jonathan Taylor ha corso tanto non ha corso secondo me particolarmente bene ma si sono basati molto su di lui contato che il lancio è andato così male dall'altra parte Green Bay Green Bay ovviamente si è basata sulla corsa ha un rate assurdo però assurdo ci sta contato chi aveva come come quarterback la percentuale tra lancio e corsa è stata più o meno di 20-80 quindi più o meno ogni 5 azioni dell'attacco di Green Bay 1 era un lancio 4 erano corse è una percentuale pazzesca ora Josh Jacobs corso 32 volte per 151 yard totali star della partita se non fosse stato quel fumble nella red zone anche lì esattamente come ha detto Green Bay si conferma una grossa debolezza dei Colts l'incapacità di fermare la corsa e l'incapacità di fermare nel corpo dei linebacker che si era vista già la settimana scorsa contro Houston quindi due squadre che hanno un punto di debolezza contro la corsa per Green Bay cosa volete che vi dica da un certo punto di vista credo che i Colts abbiano giocato male contro la squadra però è vero che credo che Green Bay abbia coperto bene problemi contro la corsa come abbiamo detto mi è piaciuto molto Romeo Dubs Dubs non è che lo vediamo molto nelle partite però in ogni partita ti fa quella presa cioè la presa della partita Romeo Dubs alla fine della partita che è una cosa che vale la pena in tenere d'occhio i Bears hanno perso contro i Texans al Sunday Night Football quindi stanotte una partita onestamente difficile a seguire cioè io ero esausta e alle 3 del mattino vedervi Bears Texans è stata una partita noiosa cioè se non se non l'avete vista non l'andate a riprendere perché i Bears hanno perso 13 a 19 due squadre che hanno fatto tantissima fatica ogni squadra ha fatto un touchdown 12 pante totali e li sono andati a contare Chicago ha lanciato per due intercetti da cui i Texans hanno tirato poi solo 3 punti Houston ha fatto un fumble da cui Chicago ha fatto solo 3 punti quindi anche dai torno gli attacchi erano proprio molto anemici non riuscivano a fare niente quindi cosa è successo nella partita onestamente sono abbastanza contenta di dirvi questo cosa avevo detto avevo detto che Demico Ryans avrebbe blizzato molto su Caleb Williams Caleb Williams è un rookie con un offensive line e così Demico Ryans ha fatto Demico Ryans ha blizzato con un rate di 41,7% che è la sua percentuale più alta da quando è head coach secondo next gen stat quindi semplicemente come vi avevo detto Demico Ryans ha detto Caleb Williams ha mostrato di non essere in grado di cittare la pressione la settimana scorsa normale rookie quello che volete l'offensive line è debole noi blizziamo ha blizzato tantissimo totale 7 sac 11 QB hit e Caleb Williams era sotto pressione in 36 dei suoi 42 dot back 36 di 42 questo vuol dire che portavano pressione anche quando non blizzavano e il gameplay offensivo dei Bears è stato assurdo perché loro continuavano a non aggiungere uomini alla linea per proteggere Caleb Williams quindi comunque se tu lanci 6 difensori e ci sono 5 a bloccare difficilmente riusciranno a tenerli tutti distanti e in più il problema era all'interno quindi non passavano solo all'esterno ma anche all'interno quindi tantissimi problemi sull'offensive line dei Bears in più Caleb Williams non riusciva a gestire la pressione quindi è stato un disastro in attacco sotto ogni punto di vista anche l'attacco di Houston ha faticato dovuto al fatto che Joe Mixon si è infortunato la corsa non funzionava e l'offensive line ha concesso pressione alla defensive line dei Bears quindi l'attacco in realtà Straud ha fatto qualche buona azione ma l'attacco è stato davvero abbastanza nemico ha faticato molto 4 field goal di cui più lungo di 59 yard quindi non tutti i field goal facili infatti alla fine il giocatore della partita l'MVP della partita è stato deciso come il kicker dei Texans e questo la dice lunga ragazzi e sì il pressure la pressione da parte della defensive line di di Houston molto bene però mettiamo tutto a fuoco eravamo contro un offensive line che stava andando molto male con un play calling da parte di Texans che più giusto di così non poteva essere i Saints hanno stravinto contro i Cowboys andiamo veloci i Saints hanno vinto 44 a 19 4 touchdown per Alvin Kamala 3 touchdown per Derek Carr di cui uno ho fatto insieme quindi 6 touchdown totali 6 quindi Derek Carr non ha lanciato molto ma ha lanciato in modo molto esplosivo 11 completi per 243 yard Alvin Kamala stava correndo a tipo una media di 10 yards per ogni corso una cosa assurda sono contenta di aver visto dei giovani da parte della difesa che hanno giocato bene Granderson non è giovanissimo però è abbastanza giovane ancora tanti anni davanti sta giocando molto bene Brian Rezi sono contenta di averlo visto molto incisivo contro l'offensive line in generale la defensive line dei Saints ha dominato contro l'offensive line dei Cowboys hanno fermato molto bene la corsa hanno portato pressione a Doug Prescott il secondario dei Saints è forte ma è riuscito a coprire davvero molto bene un attacco dei Cowboys che si basava solo su Sidney Lamb quindi il Sidney Lamb è stato coperto bene mancava Jake Ferguson che ha tolto le armi diciamo intermedie già erano prive di armi Doug Prescott non sapeva cosa fare non aveva la corsa su cui basarsi quindi l'attacco dei Cowboys completamente in scacco non poteva fare niente si vede che manca proprio la velocità nei Cowboys quindi c'è davvero molto da fare ma la storia non è tanto l'attacco dei Cowboys che comunque è riuscito a fare 19 punti ma la difesa dei Cowboys la difesa dei Cowboys debolissima burro niente cartavilina il tonno quando ci arrivi con il grissino non era niente non fermavano per niente la corsa come abbiamo detto Alvin Camara ha fatto di tutto hanno concesso 5 conversioni nel terzo down su 8 quindi un rate molto alto non facevano pressione non facevano pass rush anche Mike Parsons è stato fermato e a questo punto bisogna iniziare a pensare ai Saints in realtà comunque sono molto 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 ho molta paura a definire qualcosa dei Saints perché comunque i Saints avevano una difesa che la top 10 già l'anno scorso la differenza rispetto all'anno scorso è dovuta all'attacco l'attacco è molto esplosivo però l'attacco è lo stesso dell'anno scorso mi potete dire sì che Alvin Camara è più sano mi potete dire che hanno un offensive line che regge meglio ok hanno investito nell'offensive line però però non lo so a me fa ancora paura è vero che batteri Cowboys in modo così così pesante ragazzi io ho visto i Cowboys giocare la settimana scorsa i Cowboys non sono così deboli quindi mi 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 lascia molto lì faccio ancora fatica mi dispiace per i tifosi dei Saints cioè io adoro i Saints ho la felpa dei Saints ho speso dei soldi vorrei davvero vedere i Saints molto forti però però faccio ancora un passo indietro ecco con chi giocano i Saints la settimana 3 adesso ci guardiamo perché me la voglio vedere perché io io spero giocano contro gli Eagles gli Eagles cioè hanno se se riescono non dico a stravincere perché non pretendo che si stravincano tutte le partite ma si riescono a giocare in modo competitivo vincere o perdere contro gli Eagles allora riconsidero tutto quello che penso dei Saints poi bisogna vedere come gli Eagles giocano stanotte perché non è che gli Eagles mi abbiano fatto vedere chissà chissà cosa settimana scorsa i Chargers hanno stravinto contro i Panthers però in realtà non è che mi siano piaciuti molto i Panthers i Chargers ora però dobbiamo farci un paio di domande uno come sta Justin Herbert perché Justin Herbert si è fatto male una specie di piede polpaccio caviglia qualcosa non sappiamo nulla sappiamo soltanto che gli hanno fatto i raggi ma non ci hanno detto i raggi che cosa hanno detto quindi Jakey Dobbins un'altra partita assurda 17 corse per 131 yard totale un touchdown Quentin Johnston quei due touchdown ho visto un articolo su una qualcosa dei Chargers che diceva tipo finalmente Quentin Johnston ha la sua partita no no questo non dice molto di Johnston dice molto più di Carolina il fatto che lui sia stato in grado di fare due touchdown quindi non sono assolutamente pronta a dire che abbiamo una nuova stella all'interno dei Chargers anzi considera è vero che i Saints abbiamo appena visto che hanno fatto sta gran partita ma mi aspettavo qualcosa di più del gioco di lancio contro i Panthers i Panthers i Panthers lato positivo sono riusciti a sfruttare la debolezza dei Chargers la debolezza dei Chargers l'abbiamo detto nel pre partita è la difesa contro la corsa e i Panthers alla fine non hanno corso così male quindi quello c'è l'offensive line è stata in grado di aiutare la corsa per quello che è il punto del buio dell'offensive line rimane Equono che ancora una volta ha fatto male Bryce ha fatto davvero molto male i tifosi dei Panthers molto arrabbiati Bryce era nel panico sembrava davvero sperso non capiva da che parte girarsi molto molto problematico e ovviamente la difesa come ho detto insomma dai ok che ci sono davvero tanti infortuni in questo secondario però concedere due touchdown Quentin Johnston non è assolutamente accettabile chiudiamo con i Browns li dovevo mettere i Browns ovviamente perché i Browns hanno vinto 18-13 e i Browns erano la squadra migliore in questa partita non credo che fossero sullo stesso livello credo che i Browns meritassero senza dubbio di vincere questo è quello che io credo i Jaguars hanno fatto davvero una brutta partita questo mi fa pensare meglio dei Browns fino a un certo punto perché i Jaguars hanno giocato molto male non so se partire i Jaguars o dai Browns vi direi partiamo dai Browns l'attacco allora Watson ha evitato gli errori Watson è stato diciamo solido in questa partita ovviamente non abbastanza da farmi dire teniamolo o da farmi dire adesso si o da farmi dire ok è decente o da farmi dire stendiamolo o da farmi dire qualunque cosa è una partita in cui tutto quello che ha fatto è evitare gli errori di cosa stiamo parlando non è che stiamo parlando di Fields agli Steelers che viene pagato un milione all'anno stiamo parlando di Ederson Watson voglio ben di più del beh ma se non fai errori e la difesa regge no a me non va bene così però Watson ha evitato gli errori un passo avanti di per la settimana scorsa Jerry Judy molto bene molto bene ottima partita seconda partita entra di più nel ritmo speriamo che questo voglia dire che migliora andando avanti però questo contro il secondario di Jaguars che ha perso il cornerback uno e che non aveva nessun altro quindi l'avevo già detto attenzione questo non è non è una partita in cui possiamo valutare bene i nostri wide receiver perché i Jaguars sono deboli nel secondario la corsa la corsa è nata bene Jerome Ford ha corso bene negativi dell'attacco di Browns Amari Cooper pessima partita per due partite di seguito drop sbagliava l'air out si fermava nel momento sbagliato Amari Cooper un po' perso gli diamo il beneficio del dubbio sì magari altro per la testa è sbagliato però ha giocato molto bene l'anno scorso quindi onestamente non mi sento di dire Amari Cooper diamogli un attimo di tempo offensive line molto male tantissime penalità tanto come la settimana scorsa molte penalità che ci hanno tolto delle corse importanti corse da 8 10 yard per un totale se non mi sbaglio i più di 100 yard di penalità molte sull'offensive line penalità meritate ma non penalità che si dice sì ok il running back è riuscito a correre di 10 yard ma perché c'è stata la penalità no penalità che non c'entrava niente con la partita però effettivamente c'erano le penalità ed è giusto che noi abbiamo perso quell'azione ma ma ovviamente la cosa ti fa arrabbiare perché i Browns avevano la possibilità di avere alla fine un punteggio molto superiore di non permettere ai Jaguars di essere entro un touchdown all'ultimo drive l'abbiamo rischiata troppo ok la difesa di Browns ha retto abbastanza bene non mi posso lamentare troppo quello che non mi piace è che secondo me la squadra di Jaguars è molto debole io con l'offensive line così debole come quella di Jaguars speravo di vedere un pass rush più forte con dei ricevitori dei Jaguars che abbiamo visto faticare così tanto speravo di vedere un secondario più shutdown un secondario che fermava molto meglio è vero Denzel Ward non ha giocato tutta la partita non ha un infortunio che sta da cui sta recuperando e quindi non era tutta la partita in campo la stessa cosa se non mi sbaglio per Miles Garrett non è stato sempre in campo però è vero sono i due giocatori migliori che abbiamo che non erano tutto il tempo sul campo ma mi aspettavo di più da parte della difesa cioè la difesa deve essere in grado di fermarle le squadre come Jacksonville è vero che Trevor Lawrence io rimango dell'idea che sia forte e mi piace la connessione che ha con Brian Thomas però mancava anche Van Ingram l'offensive line è molto male hanno avuto dei problemi di drop secondo me il fatto che la nostra difesa abbia retto bene è dovuto al fatto che i Jaguars abbiano giocato male che il coaching offensivo fosse sbagliato e quindi ancora io non sono convinta secondo me i Browns hanno giocato meglio meritavano la vittoria ma è perché i Jaguars hanno giocato davvero molto male in difesa per i problemi di infortuni e di debolezze che aveva la difesa già dall'inizio della stagione e in attacco perché hanno giocato ma la settimana scorsa e continuano a giocare male adesso e questo offensive line gioca male e continuerà a giocare male già dall'anno scorso giocava male lo sapevamo potevano prendersi un offensive line hanno preso un'arma offensiva perché ce l'avevano bisogno però ovviamente poi l'offensive line continua a far male quindi la partita ci lascia con molti molti dubbi riguardo ai Jaguars i Jaguars sono 0-2 se non mi sbaglio controlliamo non mi ricordo mica più di cosa stiamo parlando i Jaguars hanno perso contro i Browns e hanno perso contro i Dolphins la settimana scorsa quindi i Jaguars sono 0-2 insomma inizio abbastanza male ok quindi mi fermo qui ci vedremo domani con l'analisi delle altre partite che rimangono e del moda in iFootball che non c'è ancora stato grazie per avermi seguito ci vediamo domani